Dalle immagini degli anni 60 tratte dal film Le mani sulla città di Francesco Rosi a quelle di oggi è cambiato davvero poco nell'area diacente a Via Marina che oggi dovrebbe ospitare il parco della Marinella. Baracche, rischio umanitario, bambini che giocano tra quintali di rifiuti speciali e condizioni igieniche disastrose per centinaia di persone, una bomba ecologica nel centro della città. Il sindaco Luigi De Magistris lancia l'allarme e chiede ufficialmente al ministro degli interni Anna Maria Cancellieri che quest'area che oggi appartiene ancora al demanio venga assegnata al comune di Napoli. La situazione di degrado infatti impone ormai la massima celerità e l'amministrazione vuole occuparsi sia di dare immediata sistemazione alle persone che si sono insediate sia di procedere poi con l'apertura del cantiere di quello che sarà un altro parco pubblico.